e ciao a tutti i cattini e ci siamo tornati a un video di lookmole con minecraft piccola come si diceva minecraft pay se il copito fa bruce tax perchè nella vita non faccio video se no per noi ci sono minecraft dove lo faremo in survival perchè i survival fanno pagare al minuccio e da quel faremo solo qualche vita di survival no? sicuramente no se no se di survival vabbè vabbè qua sotto scriviti sui commenti se faccio i video con la webcam o no se li so e poi un altra cosa un altrissima cosa mandatemi dei video più attenti perchè vorrei fare una buona video challenge una buona video challenge con tipo i video che mi hanno fatto però mi hanno fatto i video a volte mandatemi dei video che fanno i video corti e il consiglio di un tipo che mi manda dei video molto tanti video che mi sono di video degli altri video quali? si e ok 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 il nome è questo pasta o faggioni pasta e faggioni questo è un dono che non è pasta e faggioni oh cazzo è giusto fagg ok adesso come stavo iniziare meglio me lo metto in un minuto siamo gente entro con due minuti stavano a farlo questo è quello che mi fanno gli smogli attacchi poi di fuoco e lo incastro a me che me ne fotte aspetta c'è il cazzo non è il microfono questo è tutto che lo metto in te io ne costumo attacchi per il microfono se si senti il microfono ok 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 ecco questo è questo e' questo egg di Mr. Egg del libro che mi voglio fare in questo caso è stato un altro in questo caso Non lo conosce Con lei Si apre questo tipo quando devi andare a te Non male Arriga Arriga Buongiorno Allora Allora No non ci sei Tu Questa è Questa è Questa è Allora, che casino! Ma dove? Che casino! Eh no, buongiorno! Ecco, buongiorno, vieni qua! Bello, buongiorno, buongiorno! Come arrivare? se non lo vise mi faccio con il cazzo voglio e poi tutte le cose andiamo a fare una gulla e faccio un whatsapp a mamma mia e non c'è la whatsapp di scena c'è una cosa vabbè questo video sono però ci potete fare non so che scrivetevi un po' perchè scrivetevi uscire il like o c'è la campanella perchè lui ha chiamato il like che cazzo mi è successo? ah dentro la carta e cazzo qua c'è queste carte se davvero non mi trovo se nemmeno non mi riesco cosa c'è la carta non mi riesco a fare non mi riesco a fare ci siamo ci siamo ci siamo ci siamo mi lascia ci siamo Vento, se volete, vorremmo saltare i miei canzoni, siamo naziani. Enzo, se stai facendo questo video, non lo so, però mi hai scelto quel peccato. Chiacchiatemi! Ma no, aspetta, non è più bello. Aiuto, mi rimanei che caldo, non so, ma non lo so, non mi fa ammigliare. No, è l'utilizzo. A me è di toccarlo, non sapete che cosa fosse morta? A me è l'utilizzo. E' l'utilizzo che si è in mezzo. Ma siete minuti ancora? Siete minuti, non c'è la cosa. Non c'è la mia. Non c'è il nome del canale. Ciao Russo, ti saluto questa vita, però perché ti sto scrivendo il messaggio, che lo vuoi che vuoi? Ma che vuoi? E ti vuoi? Ma che vuoi! Lui ha scritto, oi. Lui ha scritto come ti chiami con la K, con la K, si scrive la donna! Non c'è la donna. No, non c'è. ecco ok chiamo costruzione x piesto ok 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 è tantissimo enti io qui ci sono piccoli ci sono piccoli perché non faccio il piccoli perché non faccio il piccoli va bene non c'è qualcosa non c'è qualcosa sono piccoli quindi devo fare una seduzione prima di fare una ventana non c'è una cosa non c'è una cosa cioè mamma è seco non c'è una cosa non c'è una cosa perché le cose intubare non c'è una cosa che io le faccio di chi no 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 non vado 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 Ah beh, io ho sempre suonato un po' così, ma non c'è una casita di robot per tentarsi. E' una casita di ridoli, che è di ansia, perchè se mi dico ridoli basta, non c'è tutto. Ma cosa devi sapere? Com'è? parte casa di mira si 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 per il fatto sentite un gioco di commenti la buona cosa non ti prendi meglio questa scelta è fantastica e non potete fare questo tipo di video non lo mandate 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 è il suo se non mi piace concentrarmi non è più dolce poi da 9 anni vorrei che io ho fatto si può fare per me io sono una casetta portante cosa mi faccio? cosa la faccio per il spettacolo cosa ne faccio c'è il video non il gg io devo fare io non ho io mi sento il fatto non 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 è E' un'esprit che vi ho fatto a tutti, ma non è in un po' che ne va più, ma non è un po' che si tratta. E' un po' che cazzo è un po' che face l'imagine, ma non è un po' che ti tratta. Dov'l'ingraftare! Dov'l'ingraftare! Oh no, sì. Passo di due. Ma che sei? No. Mi piaci male. 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 e' un po' di più, perciò yes ma ma è se vuole, la cosa è che si vede, la cosa è che si vede, la cosa è che si vede